Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi. Come vedete dal colletto della pianta nascono tanti piccoli rametti che prendono il nome tecnico di polloni. Il pollone è appunto una parte di pianta che si sviluppa dalle radici, dalla parte basale e che toglie molta limpa, molta energia alla pianta. La spollonatura, quindi l'eliminazione dei polloni, è un'operazione che comporta un notevole rispegno sia di tempo e quindi di soldi.